Per me è un onore essere qua con voi questa sera, ma in particolar modo essere presente a un compleanno davvero speciale. Le parole di Paolo che ha ripercorso i 50 anni di storia è una delle nostre realtà sportive del territorio lodigiano e di proprio l'Odicità, in particolare il mondo del quartiere di San Bernardo, è sempre, mi rende ancora più felice di essere qua. Quindi credo che sia uno sport molto sentito sul territorio perché ho visto anche i numeri degli atleti su tutto il territorio, non solo lodigiano, e delle realtà associative di società sportive nel territorio lodigiano che sono veramente importanti. Manca una settimana al grande evento nazionale. La prima cosa che devo ringraziare è la famiglia Amadei che ci ha dato la possibilità di organizzare questa manifestazione e tutti gli sponsor di questo banner, Antica Osteria Cerreto, Galluccio, che ci ha dato la possibilità di promuovere tutte le nostre manifestazioni a livello nazionale per il 2019. L'evento è diventato veramente importante perché l'abbiamo presentato a 64 coppie e abbiamo un risultato di 136 coppie iscritte dove prenderemo addirittura i giochi sia a Piacenza sia a Milano per poter disputare tutta la manifestazione. Direi che è un grosso successo per la città di Lodi, un grosso successo per la Piero Zeni che ancora una volta crea e fa agonismo ad alto livello. Volevo solo fare una riflessione per questa serata che è stata veramente una serata memorabile perché ricordare 50 anni di una società sportiva, ma soprattutto 50 anni di persone che hanno dedicato del volontariato con passione per fare sì attività agonistica, sì divertirsi, sì fare sport, ma soprattutto fare aggregazione, fare amicizia, fare solidarietà, è veramente qualcosa di eccezionale da ricordare. Una storia costruita giorno dopo giorno nell'interesse della comunità, dell'interesse di una parrocchia che è quella di San Bernardo che ha avuto modo di apprezzare il valore e i contenuti che questa società sportiva attraverso le persone che la rappresentano hanno potuto donare e soprattutto lasciare come ricordo del passato ma anche come investimento per il futuro finché la nostra comunità e il nostro territorio possa continuare a crescere.